bene 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 sapevo che saresti arrivata creatura me l'avevano detto adesso vuoi sapere troppe cose? chi me l'ha detto? so che tu sei qui per avere una pozione per dormire e che avresti anche implorato per averla? no implorato no mi hanno detto che faresti di tutto 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 per non avere più i brutti pensieri che ti stanno tenendo sveglio la notte è così o no? e quindi mi stai dicendo che non imploreresti mai per questa pozione ciò significa che non ci tieni abbastanza non ci tieni a perdere i cattivi pensieri non ci tieni a dormire creatura e allora che cosa sei venuto a fare qui? disturbare? dubito dubito tu stessi passando per caso nessuna strada passa di qui non si può capitare per caso qui nemmeno perdersi o vieni di proposito oppure questo luogo stregato non lo puoi trovare quindi sei disposto a supplicarmi per avere anche solo una una goccia di questa orribile disgustosa gustosa pozione del sonno perché è un gusto veramente orribile è dolce a te piace il gusto dolce? a me disgusta così stucchevole 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 spettbellirlare � stucchevole chi è Marx succhevole succheved ondan ج Se finisse nelle mani sbagliate, tipo le tue, potrebbe provocare danni incontrollabili, mortali. Ti basta sapere che è un fiore, non dirò nel nient'altro. Sì, è un semplice, come dici tu, fiore. Ma sai benissimo che c'è un prezzo da pagare. Come per tutte le cose, creatura, niente è gratis. Anche perché il distillato di questo fiore non basta come pozione, cioè sì, è una pozione. Ma se non c'è nessuno che la sa attivare, non nessuna strega, potresti benissimo prenderla, prendere la pozione. E non sapere come utilizzarla, cosa fare. Faresti solo dei danni. Come sempre, vuoi sempre fare di testa tua, creatura. Non ascolti mai nessuno. Non è sempre un prezzo. Ci sono cose che devono essere fatte con uno schema preciso, un passo dopo l'altro. Ma tu e tutti, tutti gli altri umani, tutte le altre creature di questo mondo, volete subito tutto, 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 pronto a vedere subito tutto, tutto, tutto. Non funziona così, nemmeno nella magia. Magia non significa schioccare le dita e avere tutto, 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 tutto subito. Anche per quanto riguarda la magia, bisogna fare un passo, un passo, un passo, un passo alla volta. Se vuoi che la magia funzioni, specialmente a lungo termine. bisogna fare un passo, 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 un passo. Bisogna attendere un po'. Essere pazienti, pazienti. Una cosa che ho notato, non avete nel regno umano creatore. Volete tutto, 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 subito. E ricordati che c'è sempre un prezzo da pagare per ogni cosa, anche per questa mozione. non è un prezzo in denaro, mia cara creatura. Il prezzo da pagare per questa mozione del sonno è molto più caro del denaro. Dovrai permettermi di entrare nella tua testolina. Dovrò vedere quali sono i tuoi pensieri, dovrò entrare per tirarli via, quelli negativi ovviamente. e dovrò mettere le mani dentro la tua testa e potrò fare ciò che voglio a tuo rischio e pericolo. Sì, verrai prima una sorta di ipnosi e poi io piano piano, piano piano entrerò, entrerò, scaverò, 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 scaverò dentro la tua mente, dentro i tuoi pensieri, dentro di te. Sei disposta creatura a pagare questo prezzo molto salato perché poi non si torna più indietro, ricordatelo. D'accordo, ci do qualche secondo per pensarci, anche se io so già quale sarà. la tua risposta creatura, altrimenti che storia sarei? Perché come vedi la tua vozione è già pronta, non ho bisogno di farla al momento. perché che sapevo che avresti accettato, creatura, implorandomi di farti avere la mia pozione del sonno e implorandomi di entrare nella tua testa per farti stare meglio. E' entrare nella tua testa e avere totale accesso di ogni tuo pensiero, di ogni tuo vissuto, passato, presente e futuro, di farmi avere accesso di tutto ciò che è la tua persona. E devo confessarti che la cosa mi piace, mi piace molto. Lo trovo un passatempo davvero piacevole. Sì, interessante, ok, iniziamo, non sei pronta, lo so, non lo sarai mai, quindi decido io quando iniziare. Iniziamo, ora. Concentrati sui miei occhi, fissali, fissa i miei occhi, i miei bellissimi occhi, fissa i miei occhi. Concentrati sui miei bellissimi, fissali, 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 fissali. Concentrati sui miei bellissimi, fissali, 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 f ti accarrezzo la testa per farti rilassare, sta entrando creatura, i tuoi occhi si fanno sempre più stanchi, sempre più stanchi, l'aria di andare creatura, le tue palpebre sono sempre più pesanti, sempre più pesanti, sempre più pesanti fino a chiudersi fino a chiudersi sei il mio potere sei il mio potere sei il mio potere sei il mio potere tutto il mio potere sono dentro sono dentro tutto il mio potere vedo tante tante cose vedo tante cose cose molto brutte ma anche tante tante cose belle sei il mio potere sei il mio potere sei il mio potere tutti 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 pensieri negativi che hai in questa piccola testolina umana pensieri 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 tutti aggrovigliati aggrovigliati ti di sentieri tra loro troppi pensieri troppi pensieri troppi pensieri troppi pensieri Se il mio potere, creatura, apri la bocca, metterò una goccia di questa potentissima posizione del sonno apri la bocca, creatura, così tiro fuori la lingua ecco ci siamo, è arrivato al momento apri la bocca, apri la bocca, apri la bocca, così la goccia è dolce, stucchevole metti la lingua dentro la bocca, assapora la pozione del sonno che ti farà effetto non restare qui ad aspettare, vai a dormire, mettiti a letto sotto le coperte se hai un gatto, ancora meglio, sei nel letto col tuo gatto lui saprà come prendersi cura di te tutti i gatti, 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 tutti i gatti se io, come il mio possesso, potrei fare di te tutto, 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 tutto ciò che voglio ma, credo, per questa volta, ti è andata bene io sono una strega di muna quindi esco esco e piano piano e tu torni in te pian piano, torni in te torni in te Tra dieci minuti farai effetto, sei sempre stanca ma torni in te, torni in te e la strega uscirà lentamente. Buonanotte creatora. Questa notte avrai solo sogni belli, sogni dolci, sogni dolci, sogni dolci e quando avrai di nuovo bisogno di me saprai dove trovarmi. Buonanotte creatora.